Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, oggi ho deciso di parlarvi di un caso che mi è davvero sconvolta. Vi ho già parlato, ahimè, di un caso di questo tipo, ossia Ariel Castro e le ragazze di Cleveland. Quindi, insomma, preparatevi. Oggi parliamo di Philip Garrido, un uomo terribile che è riuscito a tenere prigioniera nel suo cortile insieme a sua moglie Nancy, una ragazza che poi è diventata donna perché è rimasta a vivere lì, nel suo cortile, per ben 18 anni. La storia che vi voglio narrare è quella di J.C. Dugard. Prima di arrivare alla sua storia però, andiamo con ordine. Chi è Philip Garrido? L'uomo nasce in California, il 5 aprile del 1951. Cresce a Brentwood, dove si diploma nel 1969 alla Liberty High School. Dopo essersi diplomato al liceo, Philip inizia ad avere dei seri problemi con le sostanze. Infatti, nello stesso anno, Philip viene arrestato proprio per il postesso di quest'ultime. Manuel Garrido, ossia il padre di Philip Garrido, sostiene che il ragazzo, 17 anni, sotto effetto di sostanze pericoliche, ha fatto un grave incidente in moto, sbattendo la testa. Dopo quell'incidente, Manuel dice che suo figlio non è stato più lo stesso. Il padre di Philip sostiene anche di aver provato ad intervenire. Ovviamente, per la salute di suo figlio, era insano consumare una quantità così elevata di sostanze. Purtroppo, però, Manuel non ha ottenuto nessun risultato. Philip, alla sola età di 18 anni, era una mina vagante. Col tempo, i suoi problemi di dipendenza, come ovvio che sia, gli fanno anche sviluppare diverse paranoie. Infatti, Philip è solito anche utilizzare un'altra sostanza, quella che si produce nella serie TV Breaking Bad. Scusate, YouTube si emoziona, è diventato un po' più bacchettone ultimamente. Ahimè, quel tipo di sostanza è solita creare paranoie in chi la utilizza. Philip arriva a pensare davvero cose assurde, che poi andremo a sviscerare nello specifico. Inoltre, l'uomo presenta diversi problemi nella sfera intima. Nel 1972, Philip viene arrestato per aver stordito e poi fatto violenza ad una ragazzina di 14 anni. Però, le accuse sono state ritirate perché la vittima si è rifiutata di apparire in tribunale per testimoniare. Arriviamo quindi al 1976, quando Philip rapisce una donna di nome Catherine Calloway a South Lake Tahoe, in California. La porta in un magazzino di Reno, nel Nevada, per poi fare violenza su di lei per otto ore. Un poliziotto, fortunatamente, passando di lì, nota una macchina parcheggiata al di fuori di questi magazzini. Quindi parcheggia anche lui la sua auto, scende dall'auto e si rende conto che uno dei tanti magazzini ha il lucchetto rotto, non è chiuso. Quindi il poliziotto bussa. Ed aprire chi è? Philip Garrido, che inizialmente prova a buttare lì qualche scusa. Pensa di aver imbavagliato ben bene la sua vittima. Ma Catherine in poco tempo riesce a liberarsi la bocca e a urlare. Il poliziotto quindi la sente, entra nel magazzino, vede la situazione, salva la donna e arresta Philip Garrido. Philip Garrido viene accusato di vari crimini sia nei tribunali federali che in quelli statali. In una valutazione psichiatrica, l'uomo viene descritto come dipendente dalle sostanze in modo cronico, quindi deviato a livello intimo. Vi ripeto, scusate se parlo in questo modo, ma ahimè YouTube, bacchetta e anche facilmente ultimamente. Quando appare in tribunale, Philip testimonia e dice che è solito fermarsi davanti alle scuole per toccarsi mentre guarda le ragazze che passano di lì. Questa volta viene condannato a scontare 50 anni di carcere federale per rapimento e 5 anni in Nevada per violenza. È il giugno del 1977 e Philip si trova nel penitenziario di Laverworth in Kansas. Ed è proprio in carcere che Philip incontra Nancy, la sua futura moglie. Ma come la conosce? Nancy è una carcerata come lui? Ebbene no, Nancy va in visita da suo zio, è così che conosce Philip. Se ne innamora e quindi i due si sposano mentre Philip è ancora in carcere. Dopo soli 11 anni, Philip viene rilasciato dopo che due esaminatori per la libertà vigilata lo intervistano per ben 35 minuti. Philip però non è ancora libero, se ben ricordate deve ancora scontare quei 5 anni in Nevada. Ma solo 8 mesi dopo una commissione per la libertà vigilata in Nevada decide di far uscire di prigione l'uomo. Perché, cedo testualmente, non è una minaccia per la salute, la sicurezza e la morale della società. Viene quindi trasferito dall'autorità per la libertà vigilata nella contea di Costa County, il 26 agosto del 1988, più precisamente ad Antioch. Arriviamo a settembre del 1991 e ci spostiamo a South Lake 2 per conoscere J.C. Lee Dugard. La famiglia Dugard è composta dalla madre di J.C., Terry, dal suo patrigno Carl e dalla sua sorellina Shanna. Sono trasferiti dalla contea di Orange Country perché nel loro palazzo c'era stato un furto. Vivere lì, secondo loro, insomma, era diventato troppo pericoloso. I Dugard scelgono South Lake 2 proprio perché è una cittadina più tranquilla, più piccolina. Ma soprattutto è sicura, nelle città il tasso di criminalità si alza, mentre nelle piccole comunità i crimini sono una rarità. Ecco perché quando avvengono lasciano anche un forte impatto sulla comunità. J.C. ha anche scritto un libro sulla sua esperienza, che purtroppo in italiano è quasi impossibile da trovare. Io infatti ce l'ho, ma non vi dico quanto l'ho pagato perché mi viene da piangere. Ma nonostante tutto è stata un'ottima lettura, davvero, davvero molto bella e toccante. È chiaro che J.C. non sia una scrittrice, in questo libro ha ricordato la sua esperienza per come se la ricorda. Perché, come anche lei stessa ammette, non è tutto limpido e perfetto nella sua mente, avendo vissuto così tanto tempo in quel cortile. Ma andiamo con ordine. Quella mattina J.C. deve andare a scuola, è una giornata come un'altra, ed è il 10 giugno del 1991. J.C. ha 11 anni ed è nel suo letto, anche se è ancora mattina presto, è già sveglia, perché attende che sua madre Terry le dia il bacio del buongiorno. La sera prima gliela aveva chiesto espressamente. J.C. ha chiesto a sua madre di darle il bacio del buongiorno, prima di uscire di casa per andare a lavoro. Quella mattina però Terry si dimentica di dare il bacio del buongiorno alla figlia, che ancora sotto le coperte la sente uscire di casa. J.C. quindi sospira e si alza, avrebbe fatto notare questa mancanza a sua madre la sera, quando si sarebbero rincontrati tutti quanti a cena. J.C. si alza in fretta, fa colazione e quasi immediatamente si lamenta di Carl, il suo patrigno. J.C. ha un bellissimo rapporto con sua madre Terry. Sono molto molto unite, mentre con Carl la situazione è ben diversa. Infatti J.C. ha l'impressione di non stargli troppo al genio, di non stargli troppo simpatica. Inoltre ha anche una sorellina, Shana, che adora con tutta se stessa, all'incirca 18 mesi. Carl diciamo che è un tipo un po' scontroso, si lamenta per tutto, è schivo, trova sempre problemi anche dove non ci sono dei problemi. Per un momento, quella mattina J.C. assapora l'idea di rimanere a casa, di saltare la scuola. Poi però pensa a suo patrigno e dice, no, io non voglio stare tutta la mattina a casa con Carl, vado a scuola, che è meglio. Quindi scende in cucina, mangia velocemente la sua colazione ed esce di casa. J.C. abita in una casa che definisce come una specie di chalet, ai piedi di una collina. Per arrivare alla fermata dell'autobus, quindi, J.C. deve fare un percorso a piedi e mentre è lì che cammina si perde nei suoi pensieri. Ha mai animali e vorrebbe un cagnolino tutto suo, lo chiamerebbe Buddy. Quell'estate lei e la sua amica Shawnee vorrebbero lavorare, si fa per dire, dare una mano in un ranch per stare a contatto con dei cavalli. J.C. non vede l'ora di fare questa esperienza e spera tanto che i suoi genitori le diano il permesso. È una ragazza timida, non ama troppo esibirsi. E prima delle tante agognate vacanze estive, è in programma una gita con la scuola in un parco acquatico. J.C. è molto emozionata, non vede l'ora di andare in gita con la scuola in questo parco acquatico, tuttavia si sente a disagio. Perché? Perché J.C. ha i peli e non si è mai depilata. E in questo momento il suo pensiero più grande è quello di chiedere a sua madre un rasoio per potersi depilare. Arrivata a metà strada, J.C. sente il rumore di un'auto alle sue spalle. Così si svolta, guarda l'auto e aspetta che quell'auto la superi. Però in realtà c'è qualcosa che non va perché quell'auto sta seguendo J.C. molto lentamente. Solo quando J.C. si ferma, anche l'auto, le accosta a fianco. L'uomo alla guida tira giù il finestrino, si sporge per chiederle indicazioni e poi la colpisce con un teaser. J.C. non capisce cosa le stia succedendo, cerca di scappare, lotta, ma si sente paralizzata. Dal bordo della strada riesce a trascinarsi in qualche modo dietro ad un cespuglio. Mentre J.C. indietreggia, tocca con la mano qualcosa che percepisce come viscido. Non riesce a capire cosa sia. È una pigna. Questo dettaglio sarà utile per farvi capire quanto questi traumi rimangano impressi e si manifestino in qualche modo, sempre, anche con una pigna. Ma che cosa succede? J.C. viene presa e caricata in macchina. Le viene messa una coperta addosso ed un ulteriore peso sopra la coperta col fine di non farla muovere. È così che l'auto riparte. È giugno, quindi è piena estate in California, fa un caldo del diavolo. E sotto quella coperta J.C. sta muonendo di caldo, sente di non riuscire a respirare, vorrebbe gridare, ma non ci riesce. Alla fine perde i sensi. Quando si riprende la macchina è ferma e J.C. sente qualcuno parlare. Distingue due voci. Una è maschile, l'altra è più bassa ed ovattata ed è quella di una donna. J.C. è sempre sotto quella coperta, ma ora non sente più nessun peso che la copre. La sua portiera viene aperta in fretta e ben presto J.C. non ha più nessuna coperta addosso. L'uomo che l'ha presa le offre una bibita. E mentre J.C. beve alza lo sguardo e oltre a lui, alla figura maschile, vede anche chiaramente una figura femminile. Quindi è sicura. Sono in due. Un maschio e una femmina. J.C. è lì intenta a bere e si chiede che diavolo vogliano queste persone da lei. Vuole tornare a casa dalla sua mamma e vorrebbe anche dirlo a quei due tizi. Ma ha paura che le facciano del male. Intanto J.C. sente l'uomo ridere e dire non posso crederci sia stato così facile. J.C. riparde i sensi e senza che se ne renda conto l'automobile riparte e arriva anche a destinazione. Ora J.C. è nella contea di Costa County, ad Antioch per la precisione, circa 300 km da casa sua. J.C. quindi si risveglia e sente che un uomo dall'autopasseggero dice che sono arrivati a casa. Sente quindi anche una portiera aprirsi a chiudersi, viene tirata giù dalla macchina e trascinata in casa. L'uomo che ha rapito J.C. si chiama Philip Garrido. Che le dice di stare zitta e buona se non vuole avere problemi con i suoi cani che sono parecchio aggressivi. Così J.C. una volta in casa viene obbligata a sedersi su un divano di vimini e finalmente può vedere il suo rapitore. Philip Garrido. È un uomo piuttosto alto, ha gli occhi azzurri, capelli molto radi e castani. J.C. in questa circostanza dice che guardandolo, quello non le sembra un uomo cattivo. Sembra un uomo come tutti gli altri, ha l'aspetto di una persona normale, una persona qualsiasi. A questo punto Philip ordina J.C. di andare in bagno. Entra anche lui, le fa togliere i vestiti e poi la costringe a fare una doccia con lui. J.C. non sa nulla dei rapporti intimi né della violenza. Non sa identificare con esattezza quello che Philip le sta facendo in quella doccia. Sa che è sbagliato, sa che non le piace, che la disgusta. Ma J.C. non ha gli strumenti adatti per capire. Philip dal canto suo fa violenza su di lei. Ma per ora non si spinge troppo oltre e dopo capirete perché vi dico questo. J.C. in ogni caso è spaventatissima e terrorizzata, quindi finita la doccia scoppia a piangere. E quello che la consola è proprio Philip. La rassicura, le dice che per quel giorno non le avrebbe più fatto nulla, di stare tranquilla, di non piangere. Philip a questo punto dice a J.C. che l'avrebbe portata fuori per condurla in un altro posto. Avrebbe dovuto starsene zitta e buona, altrimenti avrebbe passato dei guai seri. J.C. è terrorizzata, chiede a Philip se può avere dei vestiti e l'uomo ridacchiandole dice no. J.C. quindi chiede a Philip se può tornare a casa e l'uomo le risponde ah non saprei, forse un giorno. J.C. ovviamente pensa che Philip voglia dei soldi, ma non capisce perché Philip abbia deciso di prendere proprio lei. Perché non proviene da una famiglia ricca. E lo dice a Philip, J.C. dice che non proviene da una famiglia ricca. Ma ne è certi, i suoi genitori sarebbero pronti a pagare un riscatto per riaverla. Philip si limita a guardarla, dopodiché la copre di nuovo con la coperta e la porta nel giardino sul retro. Ora, tutti noi ci immaginiamo i giardini sul retro delle persone come dei giardinetti. Ebbene no, Philip Garrido aveva dietro casa un giardino enorme pieno di baracche mezze diroccate ed è proprio in una di quelle baracche che viene rinchiusa J.C. Quella stanza è molto piccola e insonorizzata. Philip la usava solitamente per fare le prove con il suo gruppo, la sua band, in quanto è anche un musicista. Infatti in fondo alla stanza J.C. su un tavolo nota degli apparecchi con tanti tasti che però non capisce cosa siano. Quelli sono dei mixer. In questa stanza poi in un angolo ci sono un mucchio di coperte buttate per terra. E quello è il letto di J.C. Su quelle coperte J.C. dormirà davvero per parecchio tempo. Philip quindi mette delle manette a J.C. e le lascia lì, in quella stanza che lui chiama lo studio. J.C. ovviamente anche qui è terrorizzata, è confusa, piange, si dispera e poi alla fine cade in un sonno profondo. Quando si sveglia pensa che tutto ciò che ha vissuto sia un terribile incubo, però si guarda attorno e si rende conto che quello che è successo non l'ha sognato. Purtroppo. J.C. realizza ciò che è accaduto e quindi inizia a pensare a sua madre, ai suoi compagni di scuola, si chiede se a scuola avranno notato la sua assenza. Poi riflette su Philip, l'avrebbe mai liberata? J.C. ha ancora le manette ai polsi, è senza vestiti e si rende conto che molto probabilmente è notte. Quindi prova a scostare una tenda oscurante da una finestra per poter guardare la luna. J.C. e sua madre erano solite guardare la luna insieme. Discutevano su quale fosse quella migliore, la luna piena o la luna crescente. È così che J.C. guardando la luna si sente più vicina a sua madre. In ugual modo anche la madre di J.C. guarda la luna, anzi, le parla direttamente. Terry, la madre di J.C., guarda spesso la luna e si mette lì a raccontare qualche aneddoto simpatico su sua figlia. Spesso Terry guarda la luna e le parla come se fosse realmente sua figlia e sua figlia la possa sentire. Questo la fa sentire in un certo senso più vicina a lei. J.C. a questo punto sostiene che ricordi e me si fanno confusi. Ricorda che l'uomo è tornato nella stanza ore dopo con qualcosa da mangiare e una vivita. Questa cosa diventa la quotidianità. Philip va a trovare J.C. almeno una volta al giorno per portarle qualcosa da mangiare e qualcosa da bere. E col tempo J.C. si ritrova a dipendere in tutto e per tutto da Philip. È lui che decide quando mangia. È lui che decide cosa deve mangiare e cosa deve bere. Peraltro Philip è anche solito portare nello studio, nella stanza in cui è richiusa J.C. un secchio per i suoi bisogni. Ma quando se ne va se lo riporta via quel secchio quindi J.C. si deve trattenere fino a quando Philip non si fa vivo. Inoltre c'è da dire che J.C. rimane a contatto solo con Philip per parecchio tempo, per parecchi mesi. Si ritrova quindi ben presto ad attendere il suo arrivo con ansia. Sebbene sia un uomo terribile le tiene compagnia mentre mangia. Le slega le manette, le parla. J.C. dice addirittura nel suo libro che Philip talvolta è divertente e riesce anche a farla ridere. Col seno di poi però J.C. ha lavorato molto su se stessa, ha riflettuto su questa cosa ed è arrivata ad una conclusione. Philip inizia puntualmente a fare lo stupido esibendosi in imitazioni poco riuscite ogni volta che J.C. gli chiede quando può tornare a casa. Il fine di Philip è manipolare J.C. per renderla disponibile e compiacente. Cerca insomma di conquistarsi la sua fiducia. Solo così, pensa Philip, non avrebbe mai provato a scappare. Ben presto Philip porta a J.C. una televisione. È piccola in bianco e nero e trasmette principalmente canali di televendite. J.C. può guardare solo le pubblicità in televisione. Philip le impedisce di guardare qualsiasi altro canale. Ma perché? Ebbene perché nel frattempo la madre di J.C. Terry sta facendo di tutto per ritrovare sua figlia. È disperata. Stampano volantini insieme alla polizia, fanno lunghe ricerche. Nonostante di J.C. non ci sia alcuna traccia, sua madre non si arrende mai. Va avanti, sempre e comunque. Nel frattempo J.C. diventa totalmente dipendente da Philip. Come vi ho già detto, dipende da lui per mangiare, per bere, ma adesso dipende da lui anche per lavarsi quando può. Ancora, Philip è l'unica persona che fa ridere J.C. L'unica. Peccato che sia il suo aguzzino. Passa all'incirca una settimana da quando Philip ha preso J.C. Ed ora purtroppo per la ragazza arriva un momento davvero, davvero terribile. Philip infatti si presenta nella sua stanza con un frappè. Prima però le dice che devono fare una cosa speciale. J.C. di nuovo non capisce cosa le stia accadendo. Sa che quell'uomo è sopra di lei, sa che è pesante, sa che fa schifo, che non le piace, che le fa male. Ma non capisce esattamente cosa le stia succedendo. Philip dal canto suo quando ha finito ha pure il coraggio di chiedere a J.C. se va tutto bene, se per caso le ha fatto male. Da questo momento questa situazione si verifica molto spesso. Va nella camera di J.C. per portarle il pasto, ma prima di farla mangiare le fa male. Col tempo la ragazza riesce a estragnarsi, inizia a inventarsi storie nella sua testa e cerca in tutti i modi di non pensare a quello che le sta succedendo. Quando Philip non le fa male o ha finito di farle male, J.C. trova conforto nei sogni, vorrebbe perennemente dormire. J.C. ama follemente gli animali e dice a Philip che si sente sola. Quindi pochi giorni dopo l'uomo le porta a un gattino. Questa situazione purtroppo si ripete diverse volte. Philip le porta diversi animaletti, dà a J.C. giusto il tempo di affezionarci, sì, per poi entrare nella sua stanza a campare delle scuse e prendere l'animale per portarlo chissà dove. È così che J.C. ogni volta si ritrova di nuovo sola. Philip è particolarmente crudele. Non so se lo faccia a posto onestamente, ma davvero ha fatto vivere a J.C. dei momenti di minima felicità, serenità con questi animaletti, per poi portargliele via da sotto il naso. Quella è l'unica cosa che rendeva un minimo felice J.C. E ora per J.C. questo diventa sinonimo di una felicità illusoria. Insomma, quando arriva qualche altro animale, non si fida più. Gli accudisce, si occupa di loro, gli dà da mangiare. Ma sa che se Philip volesse liberarsene, lei non potrebbe fare nulla per fermarlo. A questo punto arriva una notte. Una notte in cui Philip entra nella stanza di J.C., la sveglia e la conduce in casa. In tutto questo, tanto per cambiare, la ragazza non sa cosa stia succedendo, perché è raro che Philip la sveglia di notte. Anzi, non è mai successo prima. Peraltro l'uomo parla a sproposito, dice un sacco di cose che pare non abbiano un filologico tra loro. Poi si gira, guarda J.C. e nomina una cosa chiamata Corsa. Più precisamente, Philip dice a J.C. che dovrà tenergli compagnia per un po' di giorni, in quanto è intenzionato a imbottirsi di sostanze, per poi sfogarsi su J.C. per giorni interi. La fa vestire in un determinato modo, la fa ballare davanti a lui. E J.C. in questi momenti neanche può piangere, perché Philip dice che le sue lacrime interferiscono con le sue fantasie. Inoltre, durante questa corsa, Philip dice a J.C. che rimanendo lì, sta aiutando non solo lui, ma anche tante altre ragazze, perché Philip ha dei grandi problemi intimi e lei lo sta aiutando. Philip le dice testuali parole, J.C. facendo così stai salvando me e loro. Fino a quando Philip non la riporta nella sua stanza, promettendole una cena davvero, davvero deliziosa. Purtroppo queste corse avvengono abbastanza spesso, e J.C. ancora oggi le ricorda come uno dei momenti più terribili, ma riconosce anche di essersi sentita in colpa nei confronti di Philip. L'uomo, infatti, le ripete che in realtà è una brava persona, ma non sa in che altro modo gestire il suo problema. Ecco perché non la libera. In pratica, ben presto, J.C. capisce che deve aiutare Philip per fare in modo che altre persone non soffrano. Ad un certo punto, Philip, dopo aver fatto del male a J.C., specialmente dopo le corse, inizia a scoppiare, a piangere, a chiederle scusa. Prega J.C. di perdonarlo, dice che non è colpa sua. Lui non vorrebbe fare quelle cose, ma lo fanno sentire meglio. Dopo qualche mese, J.C. finalmente viene liberata dalle manette. Così può fare quattro passi dopo mesi in cui è rimasta o seduta o sdraiata. Ovviamente per lei questo è un passo molto, molto importante. A questo punto viene spostata in un altro capannone, di fianco allo studio, che è decisamente più grande. Philip la chiama la porta accanto. In questa stanza c'è un letto mezzo sgangherato, in cui inizialmente l'uomo incatena J.C. per paura che scappi, ma poco dopo la libera definitivamente. Quella stanza è piena di cose in cui J.C. può curiosare. In effetti è quello che fa per passare il tempo. Curiosa tra le cianfusaglie di Philip, che ben presto inizia a soprannominarla Snoopy perché, parole sue, fai sempre un sacco di domande e so che è curiosato nella scrivania che c'è nella stanza in cui ora stai. J.C. si rende conto che Philip non è infastidito da questa cosa, però si preoccupa, perché quando ha aperto quella scrivania ha fatto molta attenzione, ha cercato di rimettere tutto in perfetto ordine. Ed ora ha la sensazione che qualsiasi cosa faccia, Philip, in qualche modo, lo venga a sapere. J.C. a questo punto cerca qualcosa su cui scrivere qualche suo pensiero. E quando Philip nota quello che ha scritto e vede che c'è la sua firma, le ordina di strappare la parte di pagina in cui c'è scritto il suo nome e di sceglierne un altro. J.C. si ricorda di una serie televisiva che andava in onda di nome streghe. Le piace il nome di una delle attrici, Alissa Milano, e così sceglie quel nome. Ora si chiama Alissa. Quello è diventato il suo nome. Passano parecchi mesi e finalmente Philip fa ingresso nella stanza in cui J.C. passa tutta la sua giornata con una donna, ossia sua moglie Nancy. A quanto dice Philip, Nancy è gilosa di J.C., però a quel tempo le due legano e iniziano a passare del tempo assieme. Nancy le racconta che per lavoro assiste degli anziani in una casa di riposo. Le anni passano e arriva il Natale del 1993. Philip finalmente si dà una calmata con le corse, purtroppo però avvengono ancora. Però smette di usare sostanze. Almeno lui dice di star tentando di smettere. Philip dice che sta iniziando a leggere la Bibbia, quindi si sta aggrappando alla fede. E dice a J.C. che ai suoi occhi oramai i misteri della Bibbia non sono più tali. Col tempo però Philip diventa strano. Inizia a dire che sente delle voci provenire dalla televisione anche quando è spenta, oppure sente delle voci provenire dai muri. Arriviamo a Pasqua del 1994, quando Philip e Nancy permettono a J.C. di passare tutta la giornata con loro. Quindi passano tutti quanti la giornata insieme, ridono, scherzano, cenano insieme. E poi sia Philip che Nancy dicono a J.C. che, insomma, l'hanno osservata nell'ultimo periodo e hanno una netta sensazione. Secondo loro è incinta ed hanno ragione. J.C. è incinta di quattro mesi. J.C. a questo punto ci riflette e si spaventa da morire perché sa che Nancy e Philip non l'avrebbero mai portata all'ospedale per partorire. Se ne sarebbero occupati loro, avrebbero guardato qualche video su come far nascere i bambini e se la sarebbero cavata. È così che il 14 agosto del 1994, J.C. mette al mondo la sua prima figlia. La ragazza è contenta di questa nascita perché ora non si sente più sola. Anche quando era in attesa, sperava ardentemente che Philip non volesse dar via la sua bambina. perché la sentiva già parte di lei. J.C. parlava spesso con la sua pancia e ogni volta che la bambina scalciava era felicissima. È contenta di averla e cerca di crescerla al meglio delle sue possibilità che, come sapete, sono alquanto ridotte viste le sue condizioni di vita. J.C. viene totalmente rapita dalla sua bambina. Le sta vicino, la culla, le dà da mangiare, le canta You Are My Sunshine. Fortunatamente da quando J.C. partorisce, Philip limita di moltissimo le sue visite. Insomma, in questo modo J.C. diventa la ragazzina che cresce sua figlia nel cortiere sul retro della casa di Philip Garrido. Spesso Nancy e Philip si fanno vedere solo per prendere la bambina e tenerla con loro durante la notte. A J.C. non dispiace questa cosa, però ho la netta sensazione che... Nancy ami fingere che quella sia la sua bambina. Ormai J.C. prova a non pensare spesso a casa, alla sua famiglia, alle sue amiche, anche se ogni tanto continua ad osservare la luna e a pensare a sua madre. J.C. vorrebbe scappare, ma poi ci pensa e dice Sì, ma dove vado? Sono in un posto che non conosco, con una bambina piccola, come faccio? Passano altri due anni. Arriviamo al 1996 e J.C. rimane nuovamente incinta. Il 12 novembre del 1997 partorisce la sua seconda bambina. In questo periodo l'ossessione di Philip per la religione raggiunge vette non indifferenti. L'uomo continua a leggere la Bibbia, lo fa per giornate intere e ne parla tantissimo, sostenendo che ora inizia a capire da dove arrivano le voci che sente. Inoltre Dio l'ha guarito dai suoi problemi intimi. Quindi, la situazione è questa. J.C. ora ha due bambine e chiaramente devono ricevere un qualche tipo di educazione. Quindi, J.C. cerca di creare un luogo adatto in uno dei capannoni di Philip e fa lezione alle sue figlie, nonostante lei stessa abbia smesso di andare a scuola in quinta elementare. Qui entra di nuovo in azione Nancy, perché la donna in questa storia non è poi così tanto presente. Lei lavora tutti i giorni, ogni tanto pare che anche Philip trovi dei lavoretti. Ma J.C. è chiusa nel giardino sul retro e non ha idea di quello che avviene effettivamente, non ha idea dei lavori di Philip, non ha idea di quando Nancy va a lavoro e di quando torna. E di certo non va a indagare perché ora ha paura di mettersi nei guai. E il punto è che ora non deve solo proteggere se stessa, ma anche le sue due figlie. Però Nancy è gelosa. Non è chiaro se perché non possa avere figli, io presumo di sì, ma non ho trovato nessuna fonte a riguardo. Quindi, la mia è una mera ipotesi. Nancy, insomma, nota che J.C. è ricoperta di attenzioni da quando deve occuparsi delle due bambine. Philip le dà spessoretta, l'aiuta, e Nancy capisce che al posto di J.C. vorrebbe starci lei. Le bambine sono ancora abbastanza piccole, così un giorno Philip va da J.C. e le dice che d'ora in poi le bambine avrebbero dovuto chiamare mamma Nancy. Mentre lei, per le bambine, sarebbe stata loro sorella. Arriviamo al 2000, quando Philip torna a casa con una serie di stampanti e un computer. Decide di aprire un'attività di stampanti e dà a J.C. il permesso di dargli una mano nel lavoro. Quindi J.C. parla diverse volte con clienti diversi, ha accesso ad internet, ad un telefono. Eppure, non prova mai a scappare. Mai. Neanche una volta. La ragazza non usa il computer o il telefono per chiedere aiuto, perché è totalmente soggiocata da Philip. Quello che fa J.C. in questi anni, in pratica, è tentare di sopravvivere. Philip, peraltro, con le sue teorie bizzarre sulla religione, è arrivato a dire a J.C. che gli angeli lo controllano. Quindi, se fa cose cattive, non è colpa sua. Bensì, è colpa loro. Colpa degli angeli. Ora, Philip ne è sicuro. Erano le loro voci quelle che sentiva attraverso il muro, attraverso la televisione spenta. Le voci degli angeli. Philip, però, non si limita a fare solo questo. Perché negli anni è riuscito a convincere J.C. del fatto che il luogo in cui sta è un luogo sicuro. Ma lì fuori... Chi lo sa? Chi lo sa cosa le sarebbe potuto succedere? Il mondo esterno, quello è un mondo così corrotto, pieno di persone brutte, cattive. Solo Philip e Nancy possono proteggerla. Ecco perché J.C. non prova mai a scappare. È terrorizzata. Infatti, dopo il 2000, Nancy e J.C. iniziano anche a uscire. Vanno a Walmart, vanno nei negozi dell'usato per raccattare qualche vestito, qualche roba utile. E ogni volta che escono, J.C. è paralizzata dalla paura. Sta attaccata a Nancy e non spiccica mezza parola. La prima volta che esce, J.C. ha chiaramente paura di essere riconosciuta. Quindi cerca di non incrociare lo sguardo della gente. Ma uscita dopo uscita, sebbene continui ad essere irrequieta, se ne rende conto. Nessuno la riconosce. Nessuno si ricorda di lei. J.C. nel suo libro a un certo punto pare proprio che si sia arresa. La verità però è che non c'è stato un momento in cui ha pensato, oddio che bello stare qua. Quindi di fatto ha sempre voluto tornare a casa e crescendo ha capito. Che Philip, quando diceva che gli angeli lo obbligavano a fare cose, diceva solo delle sonore balle. Questo era il suo modo per pulirsi la coscienza. Non c'è stata una sola volta in cui Philip ha ammesso la verità. Ossia, le cose che fa, le fa solo e soltanto perché le vuole fare. No, non è mai colpa sua. Se spreca soldi a sproposito non lo fa con consapevolezza. Sono gli angeli che lo obbligano a farlo. Se non lavora come dovrebbe e lascia J.C. con due bambine occuparsi di tutto il lavoro e lui dorme tutto il giorno, non è che perché sia pigro. No, no, è colpa degli angeli che vogliono che lui dorma. Arriviamo al 2004 e ormai J.C. sta cercando in qualche modo di dire a Philip che vorrebbe essere libera. Non ha mai imparato a guidare, non ha mai lavorato davvero. J.C. soffre per tutte le mancanze che ci sono state nella sua vita. Non ha vissuto tante tappe importanti, non è mai andata alle medie, alle superiori. La cosa peggiore di questo caso è che la polizia non fa il suo dovere, neanche un po'. Philip, infatti, è in libertà vigilata. Questo vuol dire che la polizia ogni tanto va a casa sua per controllarlo. Più volte la polizia va a controllarlo, ma controlla la sua casa e non il suo giardino sul retro. Però c'è da ammetterlo, col tempo J.C. riesce ad essere un po' più libera, principalmente perché Philip e Nancy vogliono sembrare una famiglia. Quindi, a un certo punto, le permettono di stare in casa con loro. E in un'occasione, un poliziotto ha addirittura incontrato J.C., gli ha anche parlato, hanno scambiato due parole di circostanza, insomma. E al poliziotto non è venuto nessun dubbio, nessuno. La polizia in questo caso ha fallito davvero alla grande, mi dispiace dirlo, ma no, non esiste. Non puoi andare a controllare un uomo in libertà vigilata, fare la perquisizione della casa, e non notare che ha un giardino enorme sul retro, fatto di baracche, con addirittura dei fili che penzolano dalle varie strutture, perché in quelle baracche c'è la corrente. Infatti, se vi ricordate, J.C. guardava la televisione. Peraltro c'è una cosa ben peggiore, perché per un periodo Philip deve indossare una cavigliera elettronica, che monitora in ogni momento la sua posizione. Basta vedere quest'immagine per capire quanto è stato anche nel cortile sul retro della casa. E guardando questa foto, un poliziotto non pensa che sia il caso di andare a dare un'occhiata per vedere che cosa ci sia in quel giardino dietro casa? Mi dispiace, la trovo davvero una cosa assurda questa. Altra cosa da sottolineare, in questo caso i vicini hanno chiamato la polizia e hanno fatto delle segnalazioni, hanno fatto diverse segnalazioni negli anni. Non sono mai stati effettuati controlli. Nessuno ha mai trovato J.C. a casa di Philip. Mai. Vorrei sottolineare a questo punto che J.C. non ha sofferto di nessuna sindrome di Stoccolma. È una delle prime cose che si leggono nella pagina di Wikipedia relativa a questo caso. Cito testualmente. È uno dei più recenti e famosi casi di sindrome di Stoccolma, in quanto la vittima, nonostante avesse avuto modo di fuggire, non tentò mai di farlo. La sindrome di Stoccolma comporta un sentimento positivo quando la persona viene colpita o maltrattata. J.C. non ha mai provato nessun sentimento positivo, mai, manco mezzo. Semplicemente era terrorizzata e credeva a tutto ciò che Philip le aveva detto negli anni. Il mondo là fuori è pericoloso. Come puoi scappare con due bambine senza sapere dove andare? A chi rivolgerti? Inoltre c'è da aggiungere che J.C. non ha mai avuto l'occasione di vedere mezzo servizio in televisione dedicato a lei. Le manca la sua mamma, lo scrive, lo menziona, la ricorda in ogni momento. Ma non sa effettivamente se l'hanno cercata o ancora se la stanno cercando. Arriviamo al 24 agosto del 2009, quando Philip, Nancy, J.C. e le sue due figlie vanno al campus dell'Università della California, a Berkeley. Perché Philip, a questo punto, vuole diffondere il suo credo sugli angeli che fanno fare cose cattive alle persone. E proprio lì vicino sono presenti due agenti donna che vedono questa famiglia. E ovviamente fanno caso a questo uomo che è alquanto strano, ossia Philip. Non c'è nulla di strano, ma le due agenti hanno una brutta sensazione. Come vi ho già detto, di fondo non c'è nessuna motivazione valida. In quanto J.C. si atteggia normalmente, recita bene la sua parte, si chiama Alyssa. Nella sua testa si è resa l'evidenza, quella ormai è la sua vita. Quindi neanche cerca di attirare l'attenzione o di chiedere aiuto, niente di tutto ciò. Però queste due agenti sentono davvero che c'è qualcosa che non va. Più guardano questo uomo che grida ai 420 di unirsi alla sua religione, più sentono che sarebbe meglio intervenire. E quindi che cosa fanno queste due agenti? Si avvicinano e si fingono interessate al culto di Philip. Lo fanno parlare. Lo ascoltano sproloquiare assurdità per minuti e minuti interi. E si rendono conto che non è un tipo molto inquadrato, visto le affermazioni che fa. Scoprono quindi come si chiama, vanno a fare un controllo nel database ed ecco che la foto di Philip Garrido appare. È un uomo in libertà vigilata e ha alle spalle una storia di violenza in quanto importante. Così cosa fanno le agenti? Li prendono tutti e li portano alla centrale di polizia. Arrivati alla centrale vengono tutti quanti divisi. Delle agenti quindi prendono J.C. e la portano in una stanza, da sola. E iniziano a interrogarla, iniziano a farle delle domande. J.C. però non sa cosa fare, è terrorizzata, ha paura che le portino via le bambine. Quindi inizialmente continua a dire che lei si chiama Alissa. Però le autorità fanno un controllo su questo nome e questa persona non esiste. Non trovano nessuna traccia di una ragazza che si chiama Alissa. E quindi si preoccupano ulteriormente. Forse quella ragazza è lontana da casa da tanto tempo, forse è stata rapita tanti anni prima. Quindi la polizia mette un po' di pressione a J.C. Le dicono di non preoccuparsi, le dicono che è al sicuro, che può parlare con loro, che può dire la verità. J.C. a questo punto dice, ok però io ho troppa paura di pronunciare il mio nome perché sono anni e anni che non lo pronuncio. Quindi datemi un pezzo di carta, ve lo scrivo. Quando gli agenti leggono J.C. Lee Dugard, a momenti hanno un mancamento. Perché J.C. ormai è scomparsa da 18 anni. Le sue figlie ormai hanno 11 e 15 anni. Appena le autorità capiscono chi sia, chiedono a J.C. se per caso possono chiamare sua madre. E J.C. si blocca e quasi non ci crede e dice, davvero? Potete chiamare mia madre? Sì sì, chiamatela, la voglio vedere. La cosa a mio parere è commovente che la sera prima Terry, la madre di J.C. è tornata a casa dal lavoro ed era molto molto stanca. Si è scaldata qualcosa di già pronto alla svelta da mangiare e poi si è messa davanti alla finestra in piedi a giusto mangiare qualcosa prima di andare a dormire. Ad un certo punto ha alzato lo sguardo, ha guardato la luna e ha detto, ok J.C. dove sei? Dove diavolo sei? La cosa incredibile è che il giorno dopo la polizia l'ha chiamata. Inutile dirvi che la polizia arresta immediatamente Filippo e Nancy Garrido. Qui a questo punto voglio tornare a un punto che abbiamo toccato all'inizio del video, sia il punto della pigna. J.C. dopo la libertà ha iniziato a collezionare in modo ossessivo delle pigne. Ogni volta che amici o conoscenti partono per qualche viaggio, J.C. chiede loro di portarle una pigna. Con l'aiuto della terapia J.C. ha capito l'origine della sua ossessione, perché quando è stata catturata l'ultima cosa che ha toccato è stata una pigna. Quella pigna per J.C. è stata l'ultima possibilità di aggrapparsi alla libertà prima della lunga prigionia. Una delle cose più belle di questa storia è vedere come J.C. si sia impegnata a fondo per reintegrarsi nella società. E' andata in terapia con la sua famiglia e le sue bambine. E la terapia le ha fatto prendere molta consapevolezza su ciò che ha vissuto. J.C. ha capito che per anni si è limitata a sopravvivere. Inoltre per lei è stata una vera gioia a riscoprire se stessa. Per anni si è adattata a Filippo e a Nancy e i loro desideri. Ma lei cosa voleva davvero? La verità è che J.C. ha messo da parte speranze e sogni per stare con Filippo e Nancy. Ma c'è una cosa che J.C. non ha mai perso, ossia la speranza. Sperare di ritrovare prima o poi la sua mamma e la presenza delle sue bambine nella sua vita l'hanno aiutata molto. Lo stato della California l'ha risarcita per 20 milioni di dollari. Per tutti gli agenti della polizia che hanno fallito nel capire cosa stesse succedendo davvero a casa dei Garrido. Filippo e Nancy vengono condannati all'ergastolo e J.C. al loro processo neanche si presenta. Non vuole più perdere un solo minuto della sua vita per quell'uomo e quella donna. J.C. dopo l'esperienza vissuta ha fondato la Just Ask Yourself to Care. In italiano chiedete a voi stessi di aver cura degli altri. Questa associazione ovviamente mira a dare supporto alle famiglie in difficoltà. E J.C. presenta la sua fondazione dicendo Ciao, sono J.C. Dugard. Chiede a te stesso di preoccuparti. Se vedi qualcosa che ti sembra strano o sbagliato, parla. Potresti sbagliarti, ma potresti anche salvare la vita a qualcuno. Oggi J.C. vive in una località che non è stata resa nota, passa il suo tempo con la sua famiglia e le sue bambine. E, cosa più importante, J.C. è felice. Trovo che questa storia sia molto commovente sotto determinati punti di vista e frustrante sotto altri punti di vista. È commovente pensare a quanto sua madre e J.C. fossero unite. È commovente pensare alle due che guardano la luna e si pensano nello stesso momento. È frustrante pensare a quante volte la polizia sia passata a casi di Philip senza rendersi conto di nulla. Neanche le segnalazioni sono state ascoltate. La cosa, a mio parere, bella è rendersi conto che ci sono degli agenti che davvero fanno il loro lavoro e lo fanno con amore e dedizione. La verità è che se quegli agenti non si fossero prese la briga di controllare Philip all'Università della California, J.C. forse non sarebbe stata liberata. Tutta la mia ammirazione va a J.C. che ha combattuto ed è riuscito a dare qualcosa di positivo dalla sua tragica esperienza per la sua associazione. Perché ora l'obiettivo di J.C. è aiutare gli altri. Detto questo ragazzi e ragazzi ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere se questo caso è stato di vostro interesse. Ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate già? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Vi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze.